La madre di Francesco era una donna grigia e minuta, con un neo su una guancia e una peluria scura sul labbro superiore. Vestiva di nero e mentre parlavo rigirava tra le mani uno straccio per la polvere. Si vedeva che un tempo era stata bella e che il mio amato Francesco aveva preso da lei il suo aspetto, gli stessi occhi slavi, le stesse dita da oretice. C'era anche la moglie di Francesco ma quasi non osavo guardarla. Aveva conosciuto il piacere del suo corpo che io non avevo mai potuto assaporare. Si inghiozzava in un angolo mentre la madre mi interrogava Quando è morto, signore? Era una bella giornata? È morto in una bella giornata, signora, con il sole che splendeva e gli uccellini che cantavano. Era morto in un giorno in cui la neve si scioglieva facendo emergere mille cadaveri straziati, zaini, fucili arrugginiti, borracce, lettere mai finite, illegibili, macchiate di sangue. Era morto il giorno in cui uno dei nostri uomini si era accorto di avere i genitali congelati. Si era messo in bocca la canna del fucile e si era fatto saltare la parte posteriore del cranio. Era morto il giorno in cui trovammo un cadavere con i pantaloni abbassati, accasciato contro un albero e ghiacciato nell'atto di sforzarsi contro l'incurabile stifichezza della dieta militare. Sotto di lui c'erano due pepite di sterco, striate di sangue. Il cadavere aveva i piedi coperti da fasciature anziché da stivali. Francesco era morto il giorno in cui gli avvoltoi erano scesi dalle colline e avevano cominciato a strappare gli occhi ai cadaveri. I mortai dei greci tossivano oltre l'altura e noi eravamo sepolti nella grandine di fango. Pioveva. È morto in combattimento, signore? C'è stata una vittoria? Sì, signora, abbiamo caricato la baionetta a una posizione greca e abbiamo respinto il nemico. I greci ci avevano respinti per la quarta volta con uno sbarramento di fuoco dei mortai. Avevano quattro mitragliatrici piazzate dove noi non potevamo vederle e ci fecero a pezzi mentre ripiegavamo. Alla fine ci arrivò il controordine e non dovevamo prendere quella posizione perché non aveva nessuna importanza tattica. È morto felice, signore? È morto con il sorriso sulle labbra e mi ha detto che era fiero di aver compiuto il suo dovere. Dovrebbe essere orgogliosa di suo figlio, signora. Francesco si era avvicinato al mezzo piccando sulla trincea. Con un'espressione allucinata negli occhi mi parlò per la prima volta dopo molte settimane. Bastardi! Bastardi! gridò! Disse guarda e si rimboccò i calzoni. Vidi le piaghe violacee della morte bianca. Francesco si toccò la carne imputridita con un'espressione di meraviglia, riabbassò i pantaloni e mi disse basta Carlo! È troppo! È finita! Mi strinse fra le braccia e mi baciò sulle guance. Cominciò a singhiozzare. Lo sentivo tremare. Prese dalla tasca il topolino Mario e me lo diede. Afferrò il fucile e si arrampicò sul ciglio della trincea. Io gli strinsi la caviglia per cercare di trattenerlo, ma lui mi colpì alla testa con il calcio dell'arma, avanzò lentamente verso la posizione nemica. A intervalli di cinque passi si fermava per sparare. I greci riconobbero il suo eroismo e non ricambiarono il fuoco. Preferivano catturare i coraggiosi, non ucciderli. Un proiettile di mortaio gli cadde accanto e Francesco sparì sotto una pioggia di argilla color oro. Ci fu un lungo silenzio. Vidi qualcosa che si muoveva dove prima c'era lui. È morto rapidamente, signore? Non ha sofferto? È morto rapidamente. Ucciso da un proiettile nel cuore non può aver sentito nulla. Posai il fucile e uscì dalla trincea. I greci non mi spararono. Raggiunsi Francesco e vidi che aveva metà della testa sfracellata. I pezzi del cranio erano grigi rivestiti di membrana e di sangue, in parte rosso acceso, in parte cremisi. Era ancora vivo. Lo guardai con occhi accecati dalle lacrime, mi inginocchiai e lo sollevai fra le braccia. Era così smagrito dall'inverno e dalle privazioni che era leggero come un passero. Mi alzai e guardai i greci offrendomi ai loro fucili. Vi fu un istante di silenzio, poi dalle loro linee salì un'acclamazione. Uno con voce rauca gridò, bravissimo! Mi voltai e portai nella trincea quel carico inerte. Nella trincea l'agonia di Francesco durò due ore. Il suo sangue intrideva le maniche e i fianchi della mia uniforme. La sua testa, completamente squarciata, era sorretta dalle mie braccia come se fosse stata un neonato. La sua bocca formava parole che lui soltanto poteva udire. Le lacrime incominciarono a scurrergli sulle guance. Io le raccoglievo con le dita e le portavo alle mie labbra. Mi chinai e gli sussurrai all'orecchio, Francesco, ti ho sempre amato. Giro gli occhi e mi guardò, mi fissò. Si schierì a fatica la gola e rispose, lo so. Io continuai, non te l'ho mai detto fino ad adesso. Abbozzò un sorriso lento e lacomico e disse, la vita è uno schifo, Carlo. Stavo bene con te. Vidi che la luce si affievoliva nei suoi occhi. Incominciò la lunga, lenta discesa verso la morte. Non avevamo morfina, le sue sofferenze dovevano essere indescrivibili. Non mi chiese di sparargli. Forse alla fine si era accorto di amare la vita che gli sfuggiva. Quali sono state le sue ultime parole, signore? Si è raccomandato a Dio ed è morto con il nome della Madonna sulle labbra. Aprì gli occhi una sola volta e disse, non dimenticare il nostro patto di ammazzare quel bastardo di rivolta. Più tardi, torturato dal dolore, mi afferrò per il colletto. Disse, Mario. Presi il topolino dalla tasca e glielo misi nelle mani. Nell'estasi della morte strinse così forte il pugno che la bestiola morì con lui. Per essere esatto, gli occhi gli schizzarono dalla testa. Signore, dove è sepolto? Riposa sul pendio di una montagna che in primavera si copre di tulipani e gode della prima luce del sole. Ha ricevuto tutti gli onori militari e i suoi camerati hanno sparato in aria. Fui io a seppellirlo. Scavai una buca profonda nella nostra trincea che subito si riempì di acqua color ocra. Zavorrai il cadavere con le pietre in modo che non affiorasse. lo seppellì in un posto infestato da ratti giganteschi e capre piccolissime. Indugiai accanto alla tomba e uccisi con una palla gli animali che accorrevano per scavare. Gli misi nel taschino sul cuore il topolino Mario. Presi i suoi effetti personali. Sono in questa valigia che le lascerò. Contiene una pietra portafortuna proveniente dall'epiro. Una lettera della moglie. Le mostrine del nono reggimento degli alpini. Tre medaglie al valore e la penna di un'acula. Contiene anche una mia fotografia. Non sapevo che l'avesse. Purchè non sia morto in vano signore. Signora adesso con l'aiuto dei nostri alleati tedeschi siamo padroni della Grecia. Avevamo perduto la guerra e fummo salvati dai tedeschi che invasero la Grecia dalla Bulgaria e aprirono un secondo fronte perché gli ellenici non avevano le risorse necessarie per difendersi. Noi abbiamo combattuto e abbiamo dato la vita per un impero che non ha scopo. Quando Francesco Morigli strinsi la testa e lo baciai sulle labbra. Restai così mentre lacrime di rabbia cadevano sulle sue ferite atroci e giurai che sarei vissuto per entrambi. Non partecipai allo smembramento della Grecia e al vergognoso trionfalismo di una conquista che fu una vittoria soltanto nel nome. I valorosi greci furono piegati da 1100 panzer tedeschi che avevano affrontato non meno di 200 carri armati leggeri, molti dei quali erano stati tolti a noi. La gloriosa avanzata italiana consistente semplicemente nel seguirli, mentre si ritiravano nel vano tentativo di sfuggire all'accerchiamento tedesco. Non partecipai all'indegna farsa perché il giorno dopo aver sepolto Francesco presi una pistola che avevo tolto a un greco ferito e in un momento di lucidità mi sparai alla coscia.